Ciao, la mia domanda è in riferimento al bonus di 600 euro per le partite IVA. Noi siamo un SRL e ci è stato detto che essendo iscritti alla gestione separata non abbiamo diritto. Perché quando gli altri lo hanno avuto? No, allora i 600 euro in realtà vanno alle SRL, cioè i soci di società SRL e SNC possono prendere 600 euro, quindi magari visto che abbiamo il contatto proviamo anche a contattare questo cittadino che ci fa questa domanda e cerchiamo di capire se ha fatto tutto il processo nella maniera giusta. Questo contributo ricordo è stato rinnovato sia per questo mese che per il prossimo che diventa 1000 euro e siamo riusciti a pagarlo immediatamente poche ore dopo l'emissione del decreto, il secondo mese. Quindi possiamo dire così abbiamo imparato perché è anche importante raccontare che cosa stiamo cercando di accelerare di una macchina dello Stato che è ancora assolutamente lenta su alcuni aspetti. Quindi siamo riusciti nel secondo bonus ai 600 euro ad accelerare il pagamento. Comunque le SRL sono incluse per i singoli soci iscritti a gestione separata, per cui è strano la segnalazione che ci viene fatta, dovrebbe averlo ricevuto oppure qualcosa è andato storto nella domanda. Però possiamo indagare insieme al signore che ci ha fatto questa domanda. Ragazzi io vorrei strapparvi già un impegno, mi pare che abbiamo finito con le domande per le prossime tappe, poi chiuderà Paola perché andiamo avanti, avremo tutti lunedì e tutti venerdì un giro d'Italia virtuale con dei parchi di consumo, persone straordinarie come voi. Quindi se mai vi chiederemo un'altra mano, un altro intervento per parlare dei tanti lavori che state portando avanti, ve ne saremo e ve ne saranno tutti grazie. Quindi grazie, grazie. Quando volete.